Allora, buonasera Paolo Villaggio. Buonasera ragazzi, tutto bene? Applausi a scena aperta dallo studio di Tavanzina. Sono molto felice. Gli applausi sono finiti, la parola a lei Paolo Villaggio, su questa scena, ma non su questa scena, sul cinema di Steno. Beh, insomma, cosa vuole che dica? Dico che il cinema italiano è cominciato con Steno Monicelli, in coppia. Poi, quando Monicelli è andato a finire nella Grande Guerra, è diventato un grandissimo, il film commerciale l'ha fatto soprattutto Steno, che è un uomo delizioso, un uomo molto intelligente, un uomo molto colto. E sono felice di avere cominciato a fare del film comico con Steno. Steno, pochi sanno che è stato un grandissimo anche, direi, una specie di grande asceta del cinema italiano. Un cinema italiano che tu hai considerato non è stato molto apprezzato dalla critica, ma è stato molto apprezzato dalla più parte del pubblico che guandava al cinema. Senta, Steno regista era esigente, la dirigeva molto, ormai lei aveva già fatto due film importanti, immagino di grande successo, l'aveva già fatti, perché questo è del 79, i due film più famosi forse. Vabbè, Steno, dico la verità, era uno degli uomini più deliziosi e più intelligenti che ho conosciuto facendo questo mestiere. Voglio chiedere una cosa, il film di vostro palmo, poi dopo te la faccio dopo, come al solito. No, ma siccome stiamo parlando di Villaggio, allora io pubblicamente qui dico un'altra cosa, siccome lui è stato così delizioso a fare questi complimenti a papà, con Carlo abbiamo avuto la fortuna anche noi di lavorare con tutti e l'attore più intelligente con cui ho lavorato è Paolo Villaggio. Veramente? Cosa vuol dire un attore intelligente? Capisco fuori dal lavoro, ma facendo l'attore cosa vuol dire? Te lo spiegare. Dovevi spiegare il fratello intelligente? Non so. Scherzo. Cosa vuol dire però questa cosa dell'attore intelligente? Che capisce il senso del... Tanto il distacco, di non prendersi sul serio, il distacco dal personaggio che fa, ma era una delizia lavorare con lui. Tanto abbiamo fatto un film in Inghilterra dove andavamo, e lui è uno di quella categoria che si chiama i trenisti, di cui faccio parte anch'io. I? I trenisti, quelli che prendono il treno, che adorano il treno. Andavamo sul set, invece di rinunciare alla macchina che ci mandava la produzione, andavamo in treno. Durante questi viaggi in treno si parlava di tutto, quello che si diceva il cazzeggio prima di cominciare. Paolo è insuperabile, perché è un uomo supercolto, intelligente, caustico, spiritoso, anche imprevedibile. E' veramente... è stato un... due film che ho fatto con lui e sono stati veramente una manna. Ma non per i film che poi sono andati anche bene, ma proprio per stare con lui. Io sarei tutta la vita con Paolo Villani.